Io credo soprattutto, ho voluto dire che era importante il tema di questo convegno che è impresa e criminalità. Sappiamo quanto sia importante per lo sviluppo del nostro meridione che ci siano delle imprese che svolgano le loro attività proprio nella legalità assoluta. E vorrei dire proprio a queste imprese che il flusso di denario che arriverà nei prossimi mesi dall'Europa per creare sviluppo in Sicilia possa essere veramente l'occasione per far sì che il nostro meridione diventi il volano dell'Italia. Quello che è importante è che ci sia da oggi, da dopo la pandemia e dopo l'arrivo di questo nuovo flusso di denari, una Sicilia che sappia approfittare finalmente delle occasioni di sviluppo. A distanza di 30 anni qual è il messaggio che adesso vuole mandare Professor Ezio? Il messaggio ne ho mandato tanti e lo mando sempre fra i ragazzi, soltanto un messaggio di legalità perché nella legalità lo sviluppo, la crescita della società è indubbiamente l'unico rimedio per combattere la mafia.